Costruzioni in verde agricolo, lotti minimi, piano regolatore generale, graduatoria bloccata per le pratiche della legge regionale 6181 su Ibla. Sono alcune delle questioni legate all'edilizia che la CNA territoriale di Ragusa ha posto all'assessore all'urbanistica e centri storici Giuseppe Di Martino nel corso di una serie di incontri succedutisi in queste ultime settimane. Spiace però rilevare, spiegano dalla CNA, come a fronte di questioni ben precise e definite che riteniamo fondamentali per la vita delle imprese e dell'indotto, non si è ancora arrivata alcuna risposta. Su tutte le problematiche che abbiamo sollevato, aggiungono, il Comune di Ragusa a voce in capitolo e potrebbe assumere dunque delle determinazioni che consentirebbero di garantire una minima boccata d'ossigeno alle piccole e medie imprese che operano nel settore. Questo silenzio spiega la Confederazione, che dura ormai da un po' di tempo, ci sta facendo preoccupare anche perché sull'argomento più volte ci siamo confrontati con l'assessore al ramo. La CNA chiede quindi ufficialmente che sulle delicate questioni si possa fare una volta per tutte chiarezza. siamo disponibili a ulteriori incontri, assicurano dalla Confederazione Artigiani, a patto che gli stessi siano propedeutici ad una rapida soluzione della vicenda, con l'obiettivo precipuo di far ripartire l'economia e lo sviluppo del nostro territorio.